Non ha ancora trovato soluzione la difficile situazione dei lavoratori della ditta MPM, l'azienda di pulizie di macchinari industriali, che lavora in appalto per la Barilla di Cade Berenzani nel Cremonese. Ai primi di gennaio la maggioranza dei dipendenti di MPM ha infatti respinto l'accordo firmato da CGL e CISL per una riduzione dell'orario di lavoro del 40%, con una conseguente riduzione degli stipendi che ha scatenato le proteste. Il 15 gennaio infatti il sindacato di base e i centri sociali hanno organizzato un picchetto. Le trattative sono continuate ma senza ancora un equilibrio, malgrado la mediazione della questura di Cremona. L'ultima proposta è stata presentata dalla MPM a fine aprile, in un incontro cui ha presenziato anche un dirigente della Barilla, una riduzione dell'orario del 25%, che contava sulle dimissioni spontanee di 4 o 5 dipendenti, che invece non ci sono state. Inoltre 21 dei 35 lavoratori interessati hanno sottoscritto il proprio rifiuto, confermando così la posizione presa a fine anno contro l'eccessiva flessibilità degli addetti delle aziende appaltiste. È uno degli argomenti più impegnativi del mondo del lavoro. Il sindacato di base Sibas, rappresentato da Fulvio Di Giorgio, in questo caso ha superato i consensi tra i lavoratori di CGL e CISL, che invece avevano firmato l'accordo di dicembre per la riduzione dell'orario e dello stipendio al 40%. I livelli di inquadramento degli addetti, come riferisce Di Giorgio, sono diversi ma mediamente bassi, dal tempo pieno al part-time a 8 ore la settimana, quindi una riduzione dell'orario sarebbe insostenibile, anche se la pulizia dei macchinari è indispensabile all'attività dell'appaltatrice. L'azienda potrebbe essere tentata dall'idea di scegliere gli addetti da licenziare. Di Giorgio richiama la necessità di applicare i criteri di legge, che tengono conto di diversi fattori, come l'anzianità di servizio e la situazione familiare. Se la Barilla vuole tagliare il budget destinato alla MPM, il sindacato di base non accetta che vadano perduti i posti di lavoro senza che ci sia alcuno stato di crisi. La scelta della Barilla e della MPM per il Sibas è infatti motivata solo dalla volontà di aumentare gli utili riducendo il costo del personale e aumentando così i ritmi di lavoro a rischio della stessa sicurezza. Grazie.